buongiorno agli ascoltatori la verità le sette la resegna politicamente scorrettissima della verità e noi vi ringraziamo perché questo servizio è seguitissimo vi ricordo che oltre a poterne usufruire sui canali social in diretta molto spesso prima dell'alba o ferita quando volete c'è la possibilità poi di recuperarlo attraverso i podcast e quindi attraverso le principali piattaforme spotify google podcast apple podcast insomma il prodotto vi arriva in tanti modi altrimenti ci sono le alternative questa mattina su radio rai non c'era pablo c'era la sua collega enrica belli che è riuscita in un'impresa meravigliosa leggendo le prime pagine dei giornali è arrivata alla verità a letto la prima pagina di ieri della verità per carità tutti sbagliamo anche biblicamente il giusto pecca sette volte al giorno chi vi parla che non è giusto né biblicamente né in altro senso sbaglia 40 volte al giorno però almeno diciamo distinguere i quotidiani del giorno da quelli del giorno prima diciamo sarebbe tendenzialmente richiesto per chi cura una rubrica di questo tipo va bene e i giornali di oggi hanno un andamento quasi monografico sì per carità c'è un po di politica vedremo le questioni tra 5 stelle partito democratico vedremo anche la situazione interna al pd con un segno di vita che viene dato dai riformisti attraverso un intervento sul repubblica vedremo qualche tensione forse reale forse esacerbata dai quotidiani tra lega e fratelli d'italia sul tema dell'autonomia vedremo la possibilità che silvio berlusconi possa tornare a casa nel weekend quindi questi temi ci sono però dovete trovarli dopo la pagina 15 16 17 18 dei giornali perché tutto lo spazio è comprensibilmente occupato dall'autentica tragedia in Emilia Romagna dove si contano già nove morti è un numero elevatissimo di persone evacuate però io ve lo dicevo ieri a caldo ve lo ridico oggi a freddo la copertura molti giornali non è francamente soddisfacente perché naturalmente si gioca molto e questo è comprensibile sugli aspetti umani sulle storie sulla commozione e questo va benissimo mancherebbe altro perché si gioca sulla narrazione doloristica e nella nostra Romagna Romagna nostra oggi ci sono diversi titoli di questo tenore si gioca molto su diciamo l'imprevedibilità e in effetti per carità va detto è caduta in un paio di giorni la quantità di pioggia che cade in sei mesi per carità tutto questo è indiscutibile più però e qui si arriva alla parte che invece è da porre in questione subito la narrazione catastrofista sono i cambiamenti climatici sono i cambiamenti climatici e con l'eccezione di libero e della verità vedremo perché in particolare la verità ha oggi un elemento che se sarà confermato è clamoroso e riguarda ellis line diciamo nella sua vita precedente fino a un paio di mesi fa è con queste eccezioni verità e libero si mette quasi completamente tra parentesi voglio dire la responsabilità politica però insomma almeno uno scrutinio su ciò che è stato fatto e non è stato fatto in termini di prevenzione e la domanda ve la potete porre se fosse accaduta una cosa del genere per un fiume lombardo il governatore fontana sarebbe andato esente da qualunque tipo di scrutinio mediato la risposta la sapete già e il livello di ipocrisia che domina in queste circostanze pure va bene non va per niente bene però allora andiamo a vedere le aperture dei quotidiani la verità ecco noi leggiamo il numero di oggi della verità non quello di ieri come servizio pubblico di radio rai la verità tamponi e mascherine un'altra presa in giro e la parola giro è scritta in rosa il che fa capire che ci si riferisce alla corsa ciclistica dopo l'assurdo ritiro della maglia rosa e la ridicola imposizione del bavaglio spuntano ciclisti positivi al virus che invece restano in gara evviva ma la quarantena non è mai stata revocata vale solo per i cittadini fessi e attenzione perché nel taglio medio articolo di carlo cambi che vedremo tra poco line opere mancate per l'emilia allagata e nessuno ricorda che il neo segretario del pd in regione aveva proprio la delega alla prevenzione non fatta e ci arriveremo tra poco andiamo a vedere gli altri quotidiani di centrodestra che hanno un approccio diverso un approccio combattivo e a mio avviso oggi particolarmente utile libero alluvioni in emilia romagna sott'acqua il modello pd editoriale di senaldi se la sinistra affonda non è mai colpa sua invece un approccio più comprensibile anche questo ma insomma un po più ecumenico da richiamo all'unità il giornale romagna nostra l'alluvione la solidarietà editoriale di augusto minzolini che richiama diciamo all'orgoglio a al fare le cose insieme alla necessaria unità in un momento come questo mentre il tempo sceglie lo stesso tema e l'intervento economico preannunciato dall'esecutivo dal governo subito 20 milioni andiamo a vedere le altre aperture il fatto naturalmente la butta sulla speculazione il partito del cemento uccide leggi su clima e suolo ferme regione con record di impermeabilità andiamo a vedere il messaggero foto ovviamente impressionante di un paese travolto dall'acqua affogati nel fango andiamo a vedere infine i tre maggiori più neutro il corriere della sera morti e sfollati come un terremoto vedremo poi stampa in repubblica che sono i due quotidiani che costruiscono diciamolo chiaramente la narrazione più utile per la sinistra così l'imprevedibile il gol imparabile e la catastrofe climatica la stampa romagna nostra poi vedremo la copertura all'interno e repubblica sott'acqua piogge tropicali sull'adriatico è l'effetto del clima malato così il sommario di repubblica editoriale di romagnoli i giorni dell'apocalisse voi capite che se cambiate il clima e c'è l'apocalisse e diciamo con ciò abbiamo risolto il problema del dell'eventuale eventuale accertamento delle responsabilità degli amministratori va bene io vi ricordo che oggi ne dico la trovate non solo la verità ma se non l'avete preso ieri anche il settimanale panorama mentre vi ricordo che questa sera alle 19 sentiremo il condirettore della verità massimo de manzoni e andiamo proprio alla verità con una raffica di segnalazioni iniziali allora giorgio gandola firma la storia di copertina sui paradossi legati al giro d'italia il l'ex maglia rosa che stava bene è stato mandato a casa una serie di ciclisti positivi che restano e voi capite comunque uno la pensi c'è qualcosa che non funziona e da questo punto di vista è appropriata mi pare l'osservazione che fa boni castellane in sede di commento dice qui le misure antivirus sono diventati quasi esercizi di scaramanzia metti la mascheria non si sa mai siamo siamo arrivati diciamo a questo livello tra 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 i la religiosità popolare l'apotropaico la scaramanzia mettete tutti insieme e esce fuori questa cosa mentre l'editoriale di belpietro è dedicata a una dichiarazione dell'attuale presidente di haifa giorgio palù e dice belpietro beh allora tutta l'enfasi sul famigerato protocollo tachipirina più vigile attesa andava andava così bene camilla conti sulla riforma doganale europea chi vi parla su il rapporto italia francia perché macron più o meno ipocritamente aveva cercato lo ricorderete l'altro giorno pur non chiedendo scusa pur limitandosi al minimo sindacale aveva qualche misura atteso la mano all'italia con la solita frase l'italia non va lasciata solo ma è stato sufficiente attendere 12 ore perché tornasse in campo il suo ministro dell'interno il famigerato d'armanen quello che il 4 maggio aveva già insultato la meloni che ha ripreso pari pari da dove aveva lasciato altri insulti all'italia e l'articolo della verità è l'unico che oggi cerca di evidenziare questi due aspetti ma macron e d'armanen sono d'accordo fra loro nel senso che fanno il poliziotto buono e il poliziotto gattivo una classica sceneggiata o c'è conflitto fra i due in considerazione delle mire personali per l'eliseo di d'armanen e secondo come giocano le due spinte opposte cioè ci sarebbe una spinta razionale che dovrebbe indurre la francia a fare squadra con l'italia contro la riforma del patto di stabilità che è pericolosa per entrambi i paesi che hanno debito alto però dall'altra parte c'è l'istinto di macron che è uno terrorizzato dal successo del governo meloni perché teme analogo esito politico in patria 2 è terrorizzato da quello che accade in africa dove la francia arretra e c'è invece un avvio di protagonismo italiano 3 è terrorizzato dall'esito delle prossime elezioni europee che potrebbe marginalizzare molto sia i macronisti sia i socialisti e allora diciamo la combinazione tra queste spinte opposte produce dei cortocircuiti stefano graziosi su i rapporti e si è sempre detto a trump e la russia no e vai a vedere poi scopri che sono stati i clinton prima e i biden adesso ad avere rapporti a volte opachi con mosca francesco borgonovo sulle tendine protesta eccetera e l'operazione della sinistra politica e mediatica di metterci il cappello sopra paolo del debbio che difende chi era colosimo la deputata di destra che potrebbe diventare presidente dell'antimafia dagli attacchi di questi giorni e diceva insomma la sinistra ha difeso e difende tuttora una serie di persone responsabili o accusate di reati di sangue terribili e fa la morale agli altri attenzione perché l'irio abbate oggi su repubblica rifà un'altra puntata rimettendo in mezzo anche carminati carlo tarallo sente il capogruppo di fratelli itali alla camera tommaso foto è un'intervista a tutto campo sui progetti legislatura inclusa alla questione della riforma costituzionale attenzione a maddalena loi penso dovete un po cercarlo ma è impressionante e già ogni volta che parla giuliano amato c'è da tremare c'è da tremare e vi avevamo detto tante volte state attenti perché il format covid quindi paura e regole draconiane compressione della libertà personale è replicabile per altre emergenze vere o presunte inclusa quella ecologica è amato zack quando tu fai la previsione catastrofica subito amato te la confermo modello covid pure per il clima avremo bisogno di regole destinate a un'osservanza generalizzata e uniforme la ddr e poi claudio antonelli e tobia de stefano su vivandi e l'idea di chiamare il generale carta già servizi dentro dentro il progetto attenzione poi all'ampia sezione e con questa chiudiamo riprendendo il giro dedicata a all'emilia romagna e qui tenetevi forte perché insomma se sarà confermato quello che scrive carlo cambi nel suo articolo che parte nel taglio medio di prima e poi gira all'interno e insomma si pone un problema politico non piccolo per elli schline le misure dimenticate dalla schline da vicepresidente della regione spettava a lei il coordinamento delle politiche di prevenzione sul clima tutto scritto in un patto ignorato dalla leader del pd e scrive tra l'altro scrive tra l'altro cambi ma che l'attuale segretario nazionale del pd nata in riva al lago di lugano e dunque con una certa idrofilia fino al 24 ottobre scorso aveva come vicepresidente della giunta regionale dell'emilia questa delega patto per il clima cioè coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica chiuse virgolette ma questa cosa non è venuta in mente a nessuno si domanda cambi senza fare giornalismo d'inchiesta ma consultando banalmente il sito della regione si legge che cosa elli schline fino al 24 ottobre dovesse fare in un pensoso documento si legge al capitolo dedicato al clima quanto segue che diamo continuare a rafforzare la strategia a consumo di suolo zero e di rigenerazione urbana con un piano di rigenerazione e resilienza delle città e della città capace non solo di attingere alle risorse europee ma anche di massimizzare gli incentivi alla riqualificazione edilizia all'efficienza alla sicurezza su larga scala e poco dopo aumentare la tutela e un migliore utilizzo delle risorse idriche migliorando gli ecosistemi favorendo un uso sostenibile attraverso la riduzione dei consumi degli sprechi nel settore residenziale industriale agricolo migliorando la qualità e la disponibilità in un'ottica di dimezzamento delle perdite di rete eccetera ma soprattutto occhio al caffè investire anche grazie alle risorse del next generation eu in un piano strategico di manutenzione difese adattamento degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di prevenzione del dissesto idrogeologico e di difesa della costa attraverso una programmazione pluriannale condivisa con gli enti locali tutto bellissimo e tutto scritto nel patto per il lavoro e per il clima naturalmente i difensori diranno eh vabbè ma questa era una cosa progettata e proiettata sul futuro su più anni eh però insomma anche qui fate il solito gioco immaginate che Giorgia Meloni fosse stata lei vicepresidente di una regione di centrodestra con questo tipo di delega e in quella regione fosse accaduto la metà della metà della metà di quello che sta accadendo in America Romagna che cosa sarebbe successo sul giornale la risposta ve la potete fare e da questo punto di vista consentitemi di valorizzare che riprendendo il giro è un po' di cose che dovete veramente cercare con la proverbiale lente di ingrandimento oggi allora quasi nessuno riprende quindi cominciamo da una cosa che proprio non c'è male che non ci sia quasi nessuno riprende oggi una decisiva intervista che io stesso ho potuto vedere solo perché la brevissima Camilla Conti ieri l'aveva rilanciata su sui canali social è fatta al corriere dell'Emilia Romagna dal capo dei geologi di quella regione che si chiama Paride Antolini il clima non c'entra non si fa manutenzione e mancano i tecnici frase chiave le dico semplicemente se si rompe un argine il cambiamento climatico non c'entra nulla è un problema di manutenzione voi capite che in due righe si smonta tutta la cosa de Mario Tozzi de quell'altro col farfallino di Fridays for Future e quindi è stata ripresa questa intervista no da nessuno come pure e qui bisogna cercare le cose oggi ci sono oltre alla verità due quotidiani che fanno una cosa a mio avviso utile e in controtendenza allora una cosa la fa il foglio che in una intervista curata da Hermes Antonucci sente Massimiliano Fazzini che è responsabile del team rischio climatico della società italiana di geologia ambientale che se la prende con l'Italia del no l'Italia del no è con l'acqua alla gola viti ambientalisti sulle infrastrutture chiave l'Emilia Romagna è da sempre all'avanguardia nella ricerca ambientale il problema è che negli ultimi dieci anni dal punto di vista infrastrutturale non è stato fatto nulla tanto che il territorio è quello mediamente a più alto rischio idrogeologico la spinta ambientalista all'interno della politica emiliano romagnolo è stata talmente forte che non ha permesso di fare nulla e e due quindi c'è presidente dei geologi ora quest'altro esperto sentito dal foglio dopodiché vi raccomando moltissimo su atlantico quotidiano l'editoriale del direttore federico punzi che se la prende e fa molto bene contro quelli che chiama gli sciacalli climatisti che si sono immediatamente buttati su questa vicenda peraltro quelli di fridays for future c'erano già preannunciato una manifestazione nacchiassata per venerdì l'altra eccezione positiva è libero l'apertura sott'acqua il modello pd l'editoriale di pietro senaldi che dice se la sinistra affonda non è mai colpa sua e fa il paragone con la lombardia dice chissà se i fiumi imbizzarriti fossero stati quante paginate si sarebbero scritte contro il modello lombardo feudo della leghe del centrodestra e qui senaldi opportunamente ricorda la vicenda del covide quando fu aggredito fontana ve lo ve lo ricorderete anche all'interno approfondimento di simona pletto su scarsa prevenzione le accuse alla regione e assolutamente da leggere anche per dare diciamo respiro e profondità alla questione corrado ocone pagina 5 e dice l'italia è sommersa da quindici secoli dal medioevo il paese è vittima di eventi di questo tipo quindi a maggior ragione anziché cianciare sui cambiamenti climatici bisognerebbe diciamo ragionare sulla prevenzione ecco vi abbiamo letto queste eccezioni la verità con onestamente la notizia forte di di carlo cambi sulle deleghe della schlain libero l'intervista sul foglio dell'esperto l'intervista sul corriere della romagna di ieri non ripresa da nessuno e l'editoriale di federico punzi stanno su cinque dita di una sola mano e voi capite che è un po poco e gli altri che fanno e gli altri fanno un'operazione cronaca 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 dolore 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 imprevedibilità 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 e un tocco diciamo di di apocalittismo green e volete fare la prova facciamolo insieme corriere della sera pagina 1 morti e sfollati come un terremoto poi la 2 e la 3 9 morti nel fango molte zone isolate telefoni fuori uso dove è mia madre palma sauro vittorio usciti per aiutare gli animali e travolti dalla piena il bimbo salvato non c'era tempo da perdere lui mi ha subito sorriso quindi vedete un'alternanza che emoziona di storie al lieto fine e di storie invece purtroppo finite ma poi la parte ben fatta di approfondimento sul disastro economico per le imprese peraltro alla vigilia della stagione estiva e poi gli esperti terreni secchi di sboscamento spazi ristretti ma la pioggia record è stata uno shock e poi la polemica sul concerto di springsteen si farà non si farà ferrara lo stesso ministro piantedosi si è riservato un tempo di decisione corriere della sera la mette così copertura ad alta intensità emotiva molte storie ma nessun approfondimento stampe repubblica fanno di peggio perché ci mettono diciamo il l'additivo green e andiamo a vedere andiamo a vedere come mettere le cose la stampa allora tutta la parte doloristica terra mia ferita maurizio maggiani pagina 2 pagina 3 pagina 4 la via crucis di acqua e frane pagina 6 morire nel fango pagina 8 come un terremoto intervista claudio cecchetto romagnoli popoli incredibili hanno la protezione civile nel sangue qui c'è la fiera no come i neri hanno il ballo nel sangue hanno il ritmo non sa tutta la fiera delle banalità che commento di linus la mia romagna ce la farà e poi eccolo qua che a un certo punto arriva tutta la cosa di fridays for future come diciamo avviso e richiamo andiamo andiamo a vedere anche questa anche questa anche questa parte qua andiamo a vedere come la mettere pubblica e pure qui lo schema è lo stesso pagina 1 sott'acqua pagina 2 3 un'apocalisse di acqua e morte 10.000 sfollati poi le storie annegati in caso in auto travolti nei campi una donna trascinata via per 20 chilometri piogge tropicali dopo mesi di siccità il clima malato presente il colto ecco che arriva la parte catastrofista e di 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 propaganda climatista fridays for future agnese casadei non parlate più di maltempo contro il meteo estremo stop ai combustibili fossili che hai capito la signorina cioè anziché preoccuparci di fare gli argini dobbiamo fermare i combustibili fossili gabriele romagnoli giorni del diluvio la primavera folle insomma avete capito che il gioco è questo e insomma a me è stato insegnato che quando ci sono i morti non si fanno polemiche quando ci sono ancora tante persone da salvare la priorità è quella però verrà anche il tempo di ragionare su un'informazione che è così diciamo silenziosa sulle responsabilità quando gli amministratori sono in centrosinistra è così pronta a buttarla o sul dolore o sull'imprevedibilità o peggio sulla propaganda climatista un po di cose politiche che oggi sono abbastanza sacrificate sui giornali allora pesci in faccia tra Renzi e Calenda anche perché lo sapete l'altra sera Carlo Calenda è andato in televisione da Floris il video è diventato virale sui social con Bersani che lo guardava con occhio con occhio misto cioè da un lato Bersani già diceva beh ok Calenda ce lo riprendiamo e farà la listarella diciamo alla destra del centrosinistra allora rifacciamo la foto della CGL no quella in cui c'erano Schlein Calenda Conte e Fratoiani però l'altro occhio di Bersani era diciamo guarda questo non capisce niente di politica perché Calenda diceva eh Renzi mi ha fregato ha fatto Renzi mi aveva detto io faccio soldi con gli arabi e invece nel frattempo Renzi però come sapete ha sfilato una parlamentare a Calenda e ora ci può essere un effetto perché il gruppo comune che avevano fatto il senato potrebbe cadere e solo Italia Viva sarebbe in grado di avere un gruppo autonomo quindi i calendiani incluso Calenda finirebbero nel misto sotto la presidenza di un comunista e Calenda avrebbe da qui a fine legislatura due minuti per ciascun intervento cioè sarebbe finita diciamo l'azione parlamentare nella legislatura di Calenda queste cose ve le raccontano bene la Cesaretti sul giornale Fraschilla su Repubblica e Bozzo sul Corriere della Sera e questo è un tema l'altra questione è quella dell'autonomia che ha due aspetti c'è un'intervista molto forte sulla stampa che in un'altra giornata avrebbe avuto una sua eco politica del governatore veneto Luca Zaia se non passa l'autonomia viene meno la maggioranza mi piacerebbe sapere chi sia il signor servizio bilancio che ha bocciato la riforma Calderoli si tratta di giudizi politici più che tecnici e qui si torna al tema che avevamo lungamente affrontato ieri del report del servizio studi del senato che era inopinatamente uscito poi è stato tolto di mezzo e oggi il Corriere della Sera sente diciamo così i due protagonisti o meglio uno è certamente protagonista Roberto Calderoli che dice a mio avviso una cosa sacrosanta cioè che quel report era zeppo di elementi politici assolutamente inopportuni e non ci pare francamente altrettanto convincente l'intervista del presidente del senato Ignazio la russa che la mette così non c'è alcuna manina i dossier sono tutti così non sono mai elogiativi ma il punto non è evidente che i dossier su una norma del servizio studi della camera o del senato devono avere un approccio relativo alle criticità di un provvedimento ma lì il tema non era l'elenco delle criticità erano dei giudizi che erano degni di una mozione di un'assemblea di partito insomma chissà se questa intervista di la russa aiuta a chiudere il caso o no comunque ve lo segnaliamo Corriere della Sera Calderoli pagina 16 la russa pagina 17 una buona notizia per Forza Italia e diciamo per chiunque non sia un cannibale rispetto ad amici avversari eccetera è l'ipotesi fatta su diversi giornali che da oggi a domenica quindi diciamo in questo lungo weekend possano esserci le dimissioni di Berlusconi dal San Raffaele quindi che il leader di Forza Italia possa tornare a casa attenzione però e questa è un'altra segnalazione politica che vi facciamo sul Repubblica dove da molto tempo c'è uno schiacciamento fortissimo di PD e 5 Stelle e anche di Repubblica sul PD oggi ci sono due segnali in controtendenza il primo a onor del vero c'è sempre stato in tutti questi mesi come diciamo come contraveleno rispetto a ciò che trovavate nelle altre pagine di Repubblica ed è un altro commento di Stefano Folli che dice al PD cosa ti dicono le amministrative sì hai avuto qualche piccolo segno di risveglio ma stai attento a non sovrapporti eccessivamente al movimento 5 Stelle e oggi ricompaiono in un intervento a pagina 15 di Repubblica un intervento già molto ampio e che è l'estratto di un documento ancora più largo che trovate sul sito di Repubblica Stefano Ceccanti, Enrico Morando e Giorgio Tonini che sono storicamente gli animatori della corrente diciamo così riformista del Partito Democratico e che insomma battono un colpo alternativi alla segretaria è ora che i riformisti facciano sentire la voce tocca a noi contestare la scelta di Schlein di un aventino sulle riforme è un tema costitutivo del PD che non vogliamo lasciare alle destre la leader è timida nel rivendicare i risultati dei risultati da noi sostenuti cambi o ne andrà della credibilità della nostra proposta e allora vedete come questi esponenti oltre a rivendicare diciamo la loro appartenenza alla sinistra al PD la loro fedeltà ai governi passati di cui il PD è stato magna pars e questo è naturalmente assai discutibile da questi microfoni però è invece interessante il fatto che sembri aprirsi una discussione politica con posizioni diverse dentro il PD vedremo se proseguirà. Naturalmente però è dentro Repubblica questo è il periodo dei Pasdaran dei Fedain e uno dei capi dei Fedain mediatici si capisce Lirio Abbate che oggi riesce a mettere in mezzo il possibile neodirettore del Tg1 Gianmarco Chiocci e una serie di altre figure tra cui la deputata Colosimo con al centro l'inquietante foto di Massimo Carminati uomo che ha un curriculum impegnativo dal punto di vista diciamo criminale. Nomine e incarichi l'ombra di Carminati sulla scalata al potere dei suoi commensali. All'iniziativa dell'ex nar Ciaverdini il nero è stato visto interloquire con la deputata Colosimo. Il caso del giornalista Chiocci possibile direttore del Tg1 indagato e prosciolto per averlo incontrato e qui Abbate ripassa in padella per la seconda volta un articolo che lui stesso aveva firmato tre giorni fa e che evidentemente sperava deflagrasse come una bomba contro Chiocci ma non è deflagrato e allora la cosa viene riproposta però è francamente abbastanza imbarazzante. L'ultima segnalazione della giornata la fa meritoriamente il Sole 24 ore ed è il titolo di prima del Sole ed è una cosa che ci preoccupa moltissimo noi ce ne eravamo occupati tante volte e se ne era anche occupato a onor del vero con una serie di interventi su Libero e su altri quotidiani Iuli Maria Prado ed è una brutta notizia imprevista brevetti Milano perde il tribunale e di di che si tratta? Voi vi ricordate che qualche anno fa sciaguratamente nell'ambito delle spinte euro liriche era nato il tribunale unificato del brevetto europeo che aveva poi tre sedi in particolare una sede in Germania una sede in Francia una sede a Londra che aveva peraltro magna pars delle competenze dopo Brexit la sede di Londra è venuta meno sembrava abbastanza acquisito che le competenze di Londra dovessero andare a Milano e invece che cosa è successo è stata presa nei giorni scorsi una decisione europea per cui le competenze originariamente assegnate a Londra non verranno date a Milano che resterà a bocca asciutta ma saranno ripartite alle due sedi individuate da Germania e Francia Monaco e Parigi lo spiega molto bene Laura Cavestri siamo a pagina 5 del sole guardate non sottovalutate la questione è due volte pericolosa mi permetto due chiose la prima intanto perché nel disastro della giustizia italiana la giustizia sul diritto industriale era una delle poche cose che funzionava soprattutto da Roma in su quindi già non si capiva questa voglia italiana di devolvere competenza a livello europeo secondo non trascurate il rischio giuridico e i costi economici per un'impresa italiana di dover agire o resistere in giudizio in lingua tedesca in lingua francese in un tribunale tedesco in un tribunale francese davanti a un giudice tedesco davanti a un giudice francese immaginate un'impresa di vernice accusata di avere plagiato copiato un brevetto eccetera e secondo voi è una buona cosa doversi difendere in Germania in lingua tedesca davanti a un giudice tedesco magari contro una controparte tedesca ritenete che ci sia un buon funus un buon favor per il soggetto italiano e se anche va bene quali costi per una media impresa sono cose a nostro avviso clamorosamente sottovalutate e speriamo che la notizia sia rovesciabile però messa così la cosa non sembra riparabile solo 24 ore pagina 1 pagina 5 per oggi ci fermiamo qui ci risentiamo questa sera alle 7 con il condirettore della verità massimo de manzoni buona giornata a tutti